mi scusi buon uomo mi sa dire l'ora per favore è 5 e 35 ma è sicuro? è 36 grazie prego ha mangiato il ciuchino eh? e no? senta mi sentite che ora sono adesso? andrà volta le sette e un quarto ma sono le sette e un quarto a spaccare incredibile ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi no io le arzo sotto c'è il campanile vedi? siete e un quarto